In diesem video geht es um typische Fehler. Siamo giunti alla quinta parte degli errori tipici. Oggi ci occuperemo di konjunktionen, congiunzioni. Ce ne sono molte, si assomigliano e a volte si possono fare errori. Per esempio, i vari modi di tradurre perché, warum, weil, denn, i vari modi di tradurre quando, als, wenn, wann, i vari modi di tradurre se, op, und wenn, e poi il problema della traduzione di che, che non è sempre das. Quindi la categoria è konjunktionen, stiamo parlando quindi di connettivi testuali, ce ne sono di diverso tipo, possono essere congiunzioni e avverbi, qui ci focalizziamo soprattutto sulle congiunzioni. Ecco, perché? Perché sapete abbiamo warum, abbiamo weil, abbiamo denn? Che differenza c'è tra warum, weil, denn? Lo vediamo tra un attimo. Ma anche tra quando, als, wenn e wann, ma ancora i vari tipi di se, op e wenn. E appunto attenzione a questo das, che non è sempre appunto che. Nel senso, non possiamo tradurre tutte le volte che in italiano abbiamo che con das, dovremmo appunto tradurlo anche in modi diversi. Partiamo da perché. Warum kommst du nicht ins Kino? In questo caso abbiamo una domanda, usiamo quindi la parola interrogativa warum. Il verbo è quindi in seconda posizione, abbiamo una domanda. La risposta si fa con weil, che vuol dire perché, nella risposta. Quindi useremo la nostra principale. Ich gehe heute nicht ins Kino. Poi abbiamo la virgola e poi abbiamo il nostro vagone. Qui abbiamo la nostra subordinata con le regole. Weil, che è appunto la congiunzione. E adesso abbiamo la struttura tipica di una frase subordinata. Il soggetto, ich, zu viele Hausaufgaben e il verbo coniugato in fondo. Abbiamo poi denn, che significa perché, poiché. Non risponde direttamente a warum. La risposta a warum è sempre weil. Abbiamo una frase principale. Ich gehe heute nicht ins Kino. Abbiamo quindi la principale. E poi attenzione, con denn non abbiamo una subordinata, ma abbiamo un'altra frase principale, perché fa parte del gruppo ad uso. Avremo quindi soggetto più verbo. Quindi un'altra locomotiva. Un'altra frase principale. Denn, quindi avremo soggetto, ich, e poi la. Il nostro verbo habe, zu viele Hausaufgaben. Rispetto alla frase con weil, vedete, con weil il verbo si trova in fondo alla frase, mentre con denn, dopo il soggetto. Abbiamo quindi visto che quando abbiamo una domanda, con warum, perché, rispondiamo con weil. Nella domanda il verbo è in seconda posizione, invece nella subordinata con weil, occupa l'ultimo posto. Abbiamo quindi la domanda diretta. Ich frage ihn. Warum kommst du nicht ins Kino? E' la nostra domanda che abbiamo fatto all'inizio. Questa è una domanda diretta. Gli ho chiesto, due punti aperte le virgolette, warum kommst du nicht ins Kino? Questa domanda può essere anche in diretta. Quindi posso chiedere, gli ho chiesto, perché lui non è venuto al cinema. In questo caso, in tedesco, abbiamo Ich frage ihn, devo mettere la virgola e non più il due punti, tolgo le virgolette, e poi, attenzione, la domanda o l'interrogativa indiretta in tedesco è una frase subordinata. Avremo quindi l'elemento che consente di fare la domanda, in questo caso, warum, perché è una domanda, er, devo cambiare appunto il pronome, nicht ins Kino, e poi dovrò mettere il verbo kommt, coniugato evidentemente a er, in fondo alla frase. Abbiamo un'interrogativa indiretta, eine indirekte Frage. Abbiamo quindi la locomotiva, che è la principale, e poi, attenzione, tutte le interrogative indirette in tedesco sono dei vagoni, quindi sono delle subordinate, e quindi il verbo va alla fine. Neibensatz, quindi, ricordatevi, non weil, perché weil è la risposta, ma è una domanda, può essere diretta o indiretta. Si traduce in tedesco se, in due modi, o con ob, che significa se, introduce un'interrogativa indiretta, er frag mich, ob ich hilf brauche, e mi chiede se ho bisogno di aiuto. È una domanda indiretta, un'interrogativa indiretta, è indirekte frage. La domanda diretta sarebbe, brauchst du hilfe? E ha come risposta un sì o un no. Ja, ich brauche hilfe. Nein, ich brauche keine hilfe. Quindi, se abbiamo una domanda, la cui risposta può essere sì o no, allora avremo una domanda indiretta con ob. Wenn significa anche se, ma si tratta di una bedingungs-satz o di una condizional-satz, cioè di una suburnata ipotetica. C'è una condizione per fare in modo che qualcosa succeda. La condizione è quella di avere tempo. Poi ti aiuto. Quindi, se ho tempo, ti aiuto. Spesso possiamo sostituire wenn con falls, per vedere se effettivamente è quella giusta la congiunzione. Nel caso in cui io ho tempo, questa è la condizione, ti aiuto. Non possiamo sostituire nel caso in cui, nell'altra congiunzione sopra. Quindi, quando se è soltanto possibile usarlo, anche come nel caso in cui, utilizzeremo sempre wenn. Poi abbiamo anche una frase, come questa, in cui abbiamo il congiuntivo 2, coniuntive 2. Quindi, se io avessi, non avessi tempo, perché è il contrario di prima, perché infatti è una frase ipotetica irreale, infatti è un irreale bedingungs-satz o di condizional-satz, infatti dobbiamo vedere la negazione, se non avessi tempo, ti aiuterei, ma siccome ho tempo, ti aiuto. Poi abbiamo quando, parliamo di temporalsätze, della temporalsatz, temporale, quando, si può tradurre con als, significa quando. l'azione, appunto, avviene una sola volta, di handlung ist einmalig, una volta, einmal, quindi succede una sola volta. Vediamo un esempio. Als ich zwölf war, wohnte ich in Zürich, quando avevo dodici anni, abitavo a Zurigo. Ecco, l'azione è conclusa, non ho più dodici anni, quando si indica, appunto, l'età è sempre conclusa. Abbiamo la nostra frase subordinata, quindi abbiamo il vagone, e poi abbiamo la principale, quindi abbiamo il vagone girato. L'azione avviene una sola volta con als, il verbo, come vedete, al passato, in questo caso al preteritum, ed è conclusa. Si può anche girare, posso anche dire Ich wohnte in Zürich, als ich zwölf war, quindi cominciamo con la principale, e poi aggiungiamo il nostro vagone. Poi abbiamo un altro modo per dire quando, che è wenn. Prima abbiamo visto wenn, nel senso di se, qui abbiamo un altro uso di wenn, qui abbiamo una temporale, temporalsatz, qui significa quando, nel senso di tutte le volte che. Wenn ich lerne, se ich fern. Quando studio, guardo la televisione. Non si dovrebbe. Ecco, in questo caso, vediamo che il verbo è al presente, quindi con wenn il verbo può essere al presente, ma può essere anche al passato. Jedes mal, wenn ich in Bern war, besuchte ich meine Uma. Qui un'azione, che indica una ripetizione nel passato. Quindi, quando il verbo è al passato, con wenn, dobbiamo avere una ripetizione. Spesso abbiamo delle spie, nella frase, come in questo caso, jedes mal, potrebbe esserci anche immer, potrebbero esserci anche altri verbi, come oft, spesso, che ci indica che l'azione è ripetuta. Ecco, l'azione è ripetuta, in questo caso, abbiamo la congiunzione wenn, quindi quando l'azione avviene più volte nel passato. Poi abbiamo, WAN, nelle domande, appunto, si usa WAN, WAN gehen wir nach Hause? Quando andiamo a casa, abbiamo una direkte frage, quindi un'interrogativa diretta, una domanda diretta, ma possiamo averla anche in diretta. Possiamo quindi formulare una domanda in diretta, un'interrogativa in diretta. E quindi abbiamo una frase subordinata. Quindi in questo caso abbiamo WAN come parola interrogativa per introdurre una domanda in diretta. Quindi WAN è usato nelle domande dirette o indirette. Poi abbiamo visto che c'erano altri due modi per dire quando, che erano ALS come subordinata temporale, i verbi erano al passato, l'azione avveniva una sola volta. E poi avevamo anche WAN, qui potevamo avere verbi al presente, ma anche al passato, se erano al passato, l'azione appunto era ripetuta. Bisogna prestare particolarmente attenzione a una parolina che spesso si sbaglia a tradurre è il CHE italiano. Ecco, il CHE italiano non è traducibile con DAS. Quindi il CHE non è RELATIVSATS, non è RELATIV pronome, non introduce un pronome relativo. Che cos'è un pronome relativo? CHE quando sostituibile da il QUALE, la QUALE. Non può essere DAS. DAS in tedesco è soltanto subordinata oggettiva o soggettiva, quindi quando abbiamo frasi come ES IS WICHTIG DAS, è importante CHE, questa è una subordinata oggettiva, DAS WIA INGLEICH INFORMIEREN. Quindi, spesso sono introdotte da ES, le subordinate oggettive, ES IS WICHTIG DAS WI INGLEICH INFORMIEREN. Quindi, in questo caso cominciamo con la nostra frase principale, la locomotiva, più la frase subordinata. Potremmo anche girarla, quindi cominciare con la frase subordinata, DAS WI INGLEICH INFORMIEREN, vedete. In questo caso poi aggiungiamo la principale IS WICHTIG. Adesso si capisce che è una SUBIECHTIG SATS, proprio perché abbiamo la frase subordinata che fa da soggetto della frase principale. In questo caso non c'è più ES nella seconda frase. Ma abbiamo anche le subordinate oggettive. VER WOLLEN TAS TU IMSOFORT TAS KELT ZRUCCIPST. Quindi, VER WOLLEN tutto quello che segue è come se fosse un gran complemento oggetto. Voglio ciò, voglio questo, cioè il fatto che tu mi restituisca subito i soldi. Anche qui abbiamo la principale e poi abbiamo la frase subordinata. I pronomi relativi non possono quindi essere tradotti da DAS, ricordati. Ma quali sono i pronomi relativi? Eh, li conosci. Sono come gli articoli. Quindi, avremo per il nominativo il quale DER, la quale DI, il neutro DAS, e il plurale DI, i quali o le quali. All'accusativo avremo DEN per il maschile e poi il tutto il resto è uguale. Proviamo a tradurre questa frase in tedesco. Questo è il maglione che mi piace. Partiamo quindi con DAS ISTAPULUVA abbiamo il nominativo perché abbiamo il verbo essere e poi abbiamo la nostra frase relativa. Evidentemente non è DAS ma dobbiamo capire come tradurre questo CHE. Allora, abbiamo la nostra frase principale la locomotiva e la frase CHE MI PIACE introduce una frase subordinata. Adesso dobbiamo capire questo CHE che appunto è maschile dobbiamo vedere che funzione appunto ha il maglione nella frase subordinata ed è un nominativo perché piace il maglione piace a chi? A me. Quindi DER è soggetto avremo quindi il complemento di termine quindi il dativo a me e poi il verbo coniugato alla fine. TASISTA PULUVA DAMMIER GEFELT Abbiamo un'altra frase da tradurre i fiori che mi hai regalato sono magnifici proviamo a spezzettarla cos'è più facile abbiamo come vedete i fiori sono magnifici e poi abbiamo questa incisa questa relativa che mi hai regalato che è all'interno quindi di blumen sind wunderschön e poi du hast mir di blumen geschenkt dobbiamo capire che funzione hanno i fiori nella seconda frase qui appunto abbiamo di blumen ripetuto abbiamo quindi di blumen e poi dovremo inserire sind wunderschön alla fine perché appunto è una frase è un'incisa i fiori sono magnifici i fiori che ecco l'unica frase che può interrompere la principale con una subordinata è appunto la frase relativa adesso che funzione hanno i fiori nella seconda frase guardiamo è un accusativo plurale quindi avremo di di blumen di abbiamo una subordinata quindi soggetto di du mir poi avremo geschenkt e il verbo coniugato alla fine poi chiudiamo la virgola si va avanti normalmente abbiamo quindi in questo caso la locomotiva che come vedete dovremmo quasi dividerla in due adesso io ho messo lo stesso disegno ma forse avrei voluto mettere un pezzettino magari dell'inizio e un pezzettino della fine e poi abbiamo la nostra subordinata all'interno che è la subordinata che è